Lo studio si inizia in classe, perché se non inizi in classe tattabuna a casa, eh, buonasera. Io a scuola studiavo poco e non mi vergogno di dire questa cosa, non mi vergogno, io studiavo poco. A casa studiavo poco, in classe non c'era, proprio non c'era avverso, io non mi distraevo mai perché dovevo assorbire il più possibile. Nei ritagli di tempo, come dice lui, c'era un'ora di supplenza, io studiavo, mettevo su faccio, lui dice perché? Io dicevo, ma che cosa vuoi fare a me che devo andare a casa e mi devo fare esercizio? Ma li voglio fare qua. E quindi mi sedevo ai muretti a secco ad aspettare il pullman, io aspettavo il pullman sui muretti a secco, studiavo. Tu dici, ma tu sembra studiare stavi. Ma no, è esattamente il contrario, cioè io sfruttavo il tempo che avevo a disposizione, anche perché, l'ho detto tante volte, andavo in conservatorio. Quindi arrivavo tardi a casa ed ero stanco, cioè alle otto di sera, proprio non mancollava. Cominciate a studiare in classe.